Benvenuti a tutti nel mio canale Oggi voglio registrarmi in questo video Ed è il video dei prodotti finiti, terminati, svuotati, davvero Finalmente lo registro perché se non mi conoscete da molto Probabilmente non lo sapete Ma io faccio veramente molta molta fatica a finire un prodotto Un po' perché non mi impegno a finirlo Nel senso comincio molti prodotti e non finisco mai Quello che ho iniziato per primo Vado un po' a spinuccare in tutti i prodotti che ho E quindi faccio fatica per quello E l'altra motivazione invece è che praticamente Se quel prodotto per esempio di make up mi piace davvero tanto Io non riesco a buttarlo Cioè mi dispiace perché ho condiviso una parte del mio tempo con lui Una parte della mia vita con lui E soprattutto se è un prodotto che mi è piaciuto molto Mi dà molto fastidio buttarlo via E quindi tipo un mio bambino che devo lasciare andare via E mi sento veramente male Infatti questi sono tutti i prodotti che ho finito E ce ne sono un po' Quindi sarà un video abbastanza colmo di roba Ma ci sono prodotti anche dell'estate E quindi immaginatevi da quanto tempo sono lì dentro E oggi è il 15 gennaio E quindi immaginatevi quanto ci metto a riempire un sacchettino di roba finita In ogni caso iniziamo subito Comincerò a pescare Vi parlerò del prodotto Come mi sono trovata Che cos'è E insomma cominciamo Per prima cosa ho pescato queste salvettine qua della Nita Che sono struccanti E sono il 3 in 1 Delicate Salvettine struccanti Però chi labbra e viso Questo in particolare è per pelli secche e sensibili La mia pelle non è tanto sensibile perché non si arrossa mai Non sono sensibile Sono secca solo in qualche parte Sono più che altro mista di pelle Però insomma avevo provato questo E queste salvettine dicono Dovrebbero fare Rimuovono anche il trucco waterproof E detergono con delicatezza 2. Lascendo la pelle morbida e fresca 3. Ideali per l'uso quotidiano Queste salvettine Io mi sono trovata molto bene Perché c'avevo anche dentro la soluzione struccante Nivea Queste qua E mi sono trovata molto bene In quanto comunque con una passata Non mi facevano arrostare la pelle E all'interno ci sono 25 salvettine Quindi una quantità media Mi sono trovata bene perché non mi arrostavano la pelle La idratavano E con una passata il trucco Veramente anche waterproof veniva via Quindi queste salvettine qua Sono state promosse a parer mio Altro prodottino che vi mostro Sono queste Sono le Nouse Pore Strip Della Shifei Queste sono due Perché comunque ne usate più di una E sono salvettine che vanno messe qua Bagnate e messe qua Per togliere i punti neri Queste sono la vita Vi giuro io le ho comprate su Wish Non so se conoscete quell'app Mi ispiravano E le ho provate Fantastiche Se le trovate Prendetele perché è veramente Vi rimane il naso liscio In una maniera L'ho fatta ieri sera Una di queste due E veramente Vengono via Tutti Il giorno dopo Che vi mettete Il fondotinto Il correttore Quello che vi mettete Si vede veramente Che è più omogeneo Perché sapete che i punti neri Si sono un po' in fuori Fanno quell'effetto Rovinato Della pelle Del brutto Da vedere E queste Sono veramente Fantastiche Ve le faccio vedere Più da vicino Io mi sono trovata Veramente Veramente Bene Sono tipo 5 In una confezione Di carta E niente Si chiamano così Nosebore strip Della Shiffey Qua sopra Se le trovate Prendetele Su Wish Lo trovate Perché sono veramente 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 Belle E buone E poi profumano anche Quindi Fantastiche Un altro prodottino Che ho finito Questo è Quando ero al mare E l'ho finito là Questa è Un acqua spray al mentolo Della Luisa Solari Erboristeria E' super abbronzante E idratante E rinfrescante Questa Sapeva di menta E' una cosa Buonissima Quanti si sentono Ancora Però è buonissima E rinfrescava La pelle E me la faceva Abbronzare Più velocemente E anche Idratava Quindi per ora Veramente prodotti Veramente Veramente buoni Se trovate questa Prendetela Io non l'ho più trovata Se la trovate Ditemi dove l'avete presa Perché E' buonissima Credo che sia stata Una delle mie preferite Di tutta la vita Questi spray abbronzanti Poi a me piace Veramente molto Mettermi lo spray Mentre sono al sole Perché Mi fa anche più Da figo Quindi Non lo so Io mi trovo bene Con questo Veramente Tanto Altro prodotto Altro prodotto Che ho finito È questa crema Qua Che è una crema Un po' particolare È la Dermolipid Ed è un mobilizzatore lipidico È un trattamento Delle disfunzioni Del microcircolo E c'è anche per la cellulite Di queste cose Ho cominciato Come molti di voi Sapranno Una dieta E accompagnata Questa dieta Ho usato Questa crema Che messa Sugli eccessi Di adipe Va a far Lavorare di più Il metabolismo In quella particolare Parte E dona alla pelle Un effetto Più rinfrescante Infatti va messa Prima di andare a letto Questa qua È della Dermolipid Appunto Come vedete qua E io mi sono trovata Veramente Veramente bene Perché comunque Lavorava Ovviamente va Unita a Un movimento fisico A un esercizio fisico E a una dieta equilibrata Non fa miracoli Però aiuta Veramente molto E questa Era 200 ml Ci ho messo un sacco A finirla Andrebbe finita In un mese Ma io l'ho finita Tipo in tre O quattro Perché già io E le creme Non vado molto d'accordo Come saprete Però veramente Veramente buona Altro prodotto Che ho finito È quello Della Garnier Da uno struccante Per occhi Express 2 in 1 Per tutti i tipi Di trucco Anche waterproof Promette due cose Ultra struccante E fortifica le ciglia Questo era Solo per gli occhi Ed è questo qua Di Garnier E È nella Quello nella confezione Viola Aveva lo strato Di Diciamo Acqua micellare Sotto E sopra aveva L'acqua viola Andrava scossato E questo Io penso Che sia Buonissimo Infatti sono quasi Tutti i prodotti Con cui mi sono trovata Bene E Questo era un 125 ml Io mi sono trovata Veramente bene Perché Con un pad Imbevuto di un po' di questo Dopo averlo scossato Veniva via anche Il mascara waterproof Cioè veramente Lo usavo anche con i cotton fioc Per quando mi sbavava sotto il trucco Prima di mettermi il fondotinta Con il mascara Vi giuro Toglieva tutto Fantastico Questo provatelo Un altro prodotto Che ho finito Diciamo quasi Perché l'ho messo Se avete visto Il trucco per occhi Low coast Se avete visto Andatelo a vedere Questo è il cover stick Di Essence Nella tonalità 06 Matte Ivory Questo stick qua L'ho finito Ma l'ho messo dentro Quel poco che rimaneva Alla scatolina di Sephora E con questo Non mi sono trovata bene Mi dispiace Essence Perché in genere I loro prodotti Mi piacciono un sacco Ma con questo Veramente Non mi sono trovata bene In quanto Anche cercando di omogenizzarlo Il più possibile Mi rimaneva poroso Mi faceva le strisciate Però per 1,50 euro Neanche Insomma L'avevo provato Ma ce l'ho da un sacco Questo Non riuscivo mai a finirlo Perché non mi sono trovata bene E vi dirò Che appunto Non l'ho ancora finito Perché è dentro La confezione di Sephora Però Insomma Lo voglio finire Però mi dispiace tanto Di non essermi trovata bene Con questo stick qua Adesso non so Se hanno cambiato La formula Del prodotto all'interno Ma Quando c'era questa confezione Qui Non mi è piaciuto Mi dispiace Un altro prodottino Che ho finito Solo perché È un campioncino L'ho finito È Levita Nutri Oil Ed è un olio Ortodermico Eutrofico Cutaneo Questo era ipoallergenico E andava Messo sul viso In modo Prima anche come primer Io lo usavo Per andare a nutrire bene La pelle Io mi sono trovata Veramente Veramente bene Aveva Profumo di Non lo so Di pulito Ed è buonissimo Infatti Penserò Se prendere anche Il campione Grande Questo era un campioncino Che ho utilizzato Infatti Qua dentro Ci sono molti Campioncini Ho finito Anche la Sunflower Laboratore Bio Ed è un gel Che andava A struccare La pelle Detergente Purificante È questo qui E io mi sono trovata Molto molto bene Perché faceva Una bellissima schiuma Andava a togliere il trucco Anche nei pori Più Più Andava a togliere il trucco Anche nei pori È fantastico Questo Io non so che dire Andava È un gel Un tipo Un shower gel Diciamo Per renderci conto Andava messo sul viso Un po' bagnato E poi io lavoravo Con la Claire Sonic Che poi non è proprio quella È un simil Però insomma Per intenderci E mi sono trovata Veramente Veramente bene Questa appunto È della Sunflower Un altro campioncino Che ho provato E mi è piaciuto È questo detergente liquido Per le mani All'aloe Della bottega verde Questo era proprio Un vero e proprio Sapone per le mani E mi sono trovata Veramente bene Perché Qua dietro C'è scritto Per detergere le mani Con una freschezza nuova E col detergente liquido All'aloe Utilizzato ogni giorno Libera la pelle Dalla impurità Lasciandola pulita Morbida Fresca e protetta L'aloe Sapete che è Un buonissimo Una buonissima pianta Per qualsiasi cosa Avete Una screpolatura Avete una feritina Va A purificare Va a detergere Va A Veramente a pulire E anche A disinfettare la pelle Quindi Un gel per mani Come può Non piacermi Io sono veramente Amante dell'aloe vera E questo È stato Fantastico Della bottega verde Buono 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 Un prodotto Di make up Che ho finito È questo Campioncino Dell'Hypnose Drama Mascara Della Lancome Vedete E questo Campioncino È stata Vita Ne ho un altro E aspetterò Un po' Per iniziarlo Perché Questo mascara Lo comprerò Sicuramente Come vedete Ha questo Scovolino Qui Un po' Incurvato E Veramente Andavo a prendere Le ciglia Sia superiori Che inferiori Quelle più piccole Con una passata Facciamo un effetto Da rockstar Ve lo giuro È fantastico Non so cosa dire Quando l'ho finito Ho pianto tantissimo Perché L'amavo Però appunto Ne ho un altro E lo utilizzerò Con molto Molto piacere E poi andrò A comprare Da Lancome Il mascara Perché Mi piace tantissimo Altro prodotto Che ho finito È questo Impacco Dell'Alga Viva Per capelli secchi E sostituisce Lo shampoo Quindi Voi vi davate Questo Di 7ml Con questo Campioncino Andava solamente Usato una volta Perché il prodotto Era giusto I capelli Molto molto lunghi Quindi era anche poco Forse Però veramente Dopo i capelli Erano lucidi E non erano più secchi E le doppie punte Sembravano anche Più nutrite Quindi Perché Prima di andarmi A smontare i capelli Avevo un po' di doppie punte E quindi Sono andate veramente A nutrirli Che quasi non c'erano più Ma proprio Rivitalizzato i capelli È stata una cosa Bellissima E questo è Buonissimo Della Quam Alga Viva Altro prodotto Inerente all'estate È questa crema qua Della Collistar Che come vedete Ho anche tagliato Perché Avevo Proprio finito E sono andata Proprio a prendere Con le dita Insomma La confezione Era così È della Collistar Ed ha una speciala Abbronzatura perfetta Ed era Una crema Doposole Super idratante E rigenerante Per le pelli secche E poteva essere usata Sia prima Che dopo Il sole E questa Buonissima Vi giuro Poi la Collistar Secondo me Ha Delle profumazioni Fantastiche Profuma ancora Tra l'altro Però con questa Io mi sono trovata Veramente Veramente Bene Infatti Come potete vedere Ho anche tagliato La confezione Per utilizzarla Tutta E idratava La pelle La rendeva Elastica La profumava Un sacco Soprattutto Come dopo sole Dopo la doccia Guarda Una cosa fantastica Altro campioncino Che ho provato E mi è piaciuto Tantissimo È questa Della Soagen Il latte Per l'emulsione D'ertergente A pH Fisologico Era un'emulsione Appunto Da utilizzare Sulla pelle Bagnata Per andare a pulire Veramente la pelle Dopo il make up Ma anche se Uno non utilizza Make up Ovviamente E ragazze Profuma Proprio di latte Ma non so Sembra veramente Una tazza di latte Io ne ho tanti Di questi campioncini E ve li metterò Anche nel giveaway Ho spoilerato Un po' di cose Ci sarà un giveaway E perché voglio Che li private Perché sono Fenomenali Davvero E quindi Niente Promosso Ultimo Ma non meno importante Prodottino finito Un altro campioncino Molto carino A mio parere È della Ducraie De Tien È una crema Emolliente Per pelli secche Vedete E ditemi Se non è carina Guardate Quanto Quanto L'ho spremuta Ditemi Se non è carina Questa crema Che carina è Comunque questa Come l'altra Della suagen Andava ad idratare Tantissimo E ne ho altri Di questi campioncini Vedrò se Mettervele Anche per provarli Davvero Questo campioncino Oltre ad essere carino Era veramente Veramente buono Solo 5 ml Di prodotto Però vi dico Che mi è durato Quasi una settimana Perché ne andava applicata Pochissima In quanto era Molto 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 Cremosa Come cosa E Andava ad idratare Veramente tanto Quindi non ne serviva Veramente Tantissima In ogni caso Questo era il mio video Dei prodotti finiti E i miei pareri personali Tutto Parere personali Non sono pagata Per dire nulla E Sono tutti prodotti Questi in particolare Che ho acquistato io E niente Io spero Come in ogni video Che vi siate divertiti Che vi sia piaciuta Questa tipologia di video Se si Mettetemi un like Se non l'avete già fatto Iscrivetevi al canale Per nuovi video Io vi mando tanti baci E buona giornata Ciao